Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono RedDF e oggi siamo in questo nuovissimo video su Outlast 2 Come avrete detto nel video di Minecraft, doveva uscire un video su Outlast, molto probabilmente ci farò anche in una serie su Outlast E niente, incominciamo, cioè dai dai, incominciamo, incominciamo Modalità storia, normale, difficile, incubo, folle, normale ragazzi, normale Outlast 2 contiene scena di violenza, che cacchio me ne frega, ci piace la violenza L'NG è una giornalista, non me ne fotte un cazzo, andiamo avanti Partiamo benissimo con una statua della Madonna e Gesù Cristo Ok Portiamo benissimo Sta arrivando Oh porca cosa Oi, 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 ma che cazzo vuoi, oi Oii Stanno appiccicando, dico, questa si sta ingelosendo a caso Fabrica Non c'è un cazzo Giustamente quello non vuole che sapere un cazzo, giustamente, pagano l'Orwin Le camera, come nel primo Outlast Pure questo c'è il sensore Oh porca madonna Eh, non si dicono le parole, Dio cane Simulante U-Kets Che cazzo stanno facendo Ma 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 che c'è Vabbè Cazzo ne frega che non è confermato, sbillo no, fa più audience Eh, ma quando si schianta l'aereo, dai, voglio che si schianta, che sicuro si schianta l'aereo, porta un merda Devo provare una versione che può servire come un'intro per il tutto Dicami quando siamo bene Ok Siamo bene Due settimane a volte, una nuova moglie, si è trovata andata, barefoot, pregnauta e solida, su una barrenza di strada, 100 mili dal nero Qui, oh, lo sapevo, eccolo qua Lo sapevo Lo sapevo Adesso muoiono Tutti E' morta Non è vero Ha salvato Che cazzo urli? Sto solo morendo, non devi urlare Boom Ecco appunto Outlast 2 Stiamo giocando? Si Ma scusa, mo che cazzo ci faccio in una scuola se prima ero in un aereo? In un elicottero, scusate Puoi spiegarmelo per favore? Hello? Ah, mmm C'è un ragazzo insieme a due ragazze, te le fai queste due, brutto, beliconcello Qua non c'è niente Non morirà Ave Gesù Porco Dio Grazie Minchia E' opera tua E' opera tua questa Quante cazzo di luci metti? Basta? Favano un po' di scurità, Dio cane Questa è una cosa dove si... Che cacchio è questa? No, è una televisione Questo non salta neanche, vorrei vedere da sopra Non mi fa vedere Scusi, c'è qualcuno qui dentro? Ma che minchia devo fare io qua? Io non lo so Porco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mannaggia la Buki Eh, non, lo so che non siamo soli Ah, adesso ci troviamo... Che cazzo si faceva fare in quella scuola allora questo coglione? Boh Bacca viva Bacca viva Giustamente lui si sveglia, cagli da un elicottero Si spacca la schiena Non muore Non muore E... La telecamera giustamente carica da 30 miliardi di... Di metri e non si rumpa Giustamente, eh Ovvio C'è poca poca nebbia, è giusto poca poca Per visualizzare il tuo obiettivo in qualsiasi momento premendo... Mi vedi un materiale girato Non mi interessa Grazie Ma quindi... No Se premo questo? Aha Madonna, i ricordi del primo Outlast Devo scendere così? No Devo scendere, eh Ah, devo scendere, devo scendere, ma non so come Che cazzo me ne frego, vai Ma come scendevo? È morto Ma come scendevo? Cioè... Come scendo? Ah, di qua Eh, sono stupido La prima... Non ho mai incominciato il gioco, già sono morto, vabbè Succede, capita Premi saltare, no? Ah, così ti salta, grazie al cazzo Salta! Ci mancava che cadeva, tipo bestemmiava tutto di nuovo Per salire, io sono la sporzenza, muoviti verso di esse Sporzenza Rimuverti la sporzenza, spostati dal lato sinistro a destra No, mo mi sposto avanti mo Lasciarti cadere, premi il cerchio, ok Salta Pesta l'aereo Ho fatto già una mail, grazie Già sapevo Ehi Ehi, non si dice merda Porco di Che cazzo urli? Butta lì qui Che cazzo Come si ingrandisce? No, voglio vedere che cosa è quello Come si ingrandisce? Aha Ma quello c'è il pisello in mano Ma quello c'è il pisello in mano Una ricca Vabbè Andiamo avanti, sorvoliamo Non fa niente Come si corre in questo gioco? Si può correre? Non metti Buongiorno Che cazzo sta facendo la telecamera? Buongiorno signore Non sta proprio bene eh? Devo dire la verità E' un po' morto ma un poco eh Poco poco Comunque io me ne vado, ciao Filmato registrato Andiamo in caverna Con questo gioco è fatto benissimo So che è tipo uscito due anni fa Ma non l'ho mai fatto sinceramente Non ho mai visto un video e non l'ho mai fatto Anche non mi è mai interessato Però ora non l'ho messo gratis quindi Ho detto vabbè facciamolo Purtiamoci di qui Sta recando anche adesso Il villaggio Lo cazzo stai via? Dove lo vedi il villaggio? Ma sta là Ma sta là No ci sta manco bisogno del coso verde qua Che si vede già Se per superare io sta con i premix Va bene Oh chi è? Ah così sgillo Tan 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 Apri la porta Bussa Non si apre Bene Andiamo a averti qua Ehi che so sti rumori Tiro una bestemmia Ti faccio uscire fuori A sondi bestemmie Se c'è qualcuno Se non c'è qualcuno Muore lo stesso Che cazzo di È ovvio che c'è qualcuno no? Che cazzo ti c'è a fare? È una batteria Una batteria Oh È morto questo È morto bruttissimo Come si carica la batteria? Aiuto Ah con l'Y È con Il cazzo Come si chiama? Triangolo Rendi Gli scotch di legge Andiamovi Allora questo Se ne apro questo Porco Ma vaffanculo Fatto coca addosso A cagare Chiudi Chiudi Allora Bel villà Oh Oh Vattene affanculo Vattene Va Va cagare Non mi rompere i coglioni La brava gente qua Sono guardato da un aereo Stavo morendo e Trovo anche i pazzi assassini manieci Che mi vogliono uccidere Guardate Sbicciare L2 R2 Una bici Non ci posso salire sopra Non sta niente Qua ci posso entrare in casa? No Ci sono andato prima Credo Sconditi Aha Ah Poi Io sono sti cosi Con C'è uno che sta essendo scopato Brutalmente nell'ano Ma Ma Che cazzo è un pico È bruttissimo Sembra il Geofestere con Dai va Sembra il Geofestere con i capelli Sembra Vabbè con i capelli C'è una scoccia ad infinite però vabbè C'è uno morto qua Che brutta cosa Credo che si possa entrare anche in questa casa Giusto 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 Andiamo dalla porta Oh Non si può Deve aprire la finestra Ah dalla finestra deve entrare Ultima ammata Alcune porte hanno una struratura di sicurezza che può essere usata per Non ho letto vabbè Ricarica la batteria Questa non si apre C'è una batteria da queste parti Che mi servirebbe sai Sono a corto No eh Mi sa di no Vabbè Ciao No Passiamo da qua sotto Però devo un attimo Alzati Devo mettere per forza telecamera Non si vede Non si vede una minchia Un cazzo si vede La verità questo è proprio un villaggio proprio Che so sti rumori Stavo dicendo comunque È un Un villaggio che ci vivrei Santa Che cazzo sto dicendo questo Ma è stupido Beh È stupido Qui qualcuno ha partorito Andiamo di qua Andiamo di qua Che scherzo Che scherzo Tutti morti Che scherzo Che scherzo Andiamo via Andiamo via Che scherzo Bleh Hanno fatto una super orge L'hanno fatto Tutti morti Tutti morti Cavalluccio Fatta bene Fatta bene Bimbi morti Bimbo impalato Per strisciare Per strisciare Tieni il bermudo Gecchio Ok E Bleh 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 Prendi 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 Oh chi è? C'è qualcuno qua Sicuro Regali Ma sta zitto? Oh Oh Chi è? Oh Porca madonna Come si corre? Come si corre? Come cazzo si corre? Eh vabbè Ma così? Che cazzo è successo? Non ho capito niente raga Eh? Vabbè Non ho capito nulla Ho visto solo quella che mi seguiva Qua si entra dalla finestra Entra, entra, entra Chiudi, 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 chiudi Chiudi Quindi benda Che cazzo la serve la benda? Questa porta non ci ha Appunto Vabbè apriamo la finestra Andiamoci nella via tanto Mo so come scappare Quindi se Apri Se la vedo la scappo So come scappare Quindi la metto in culo Io la metto Svisciamo Ehi, ehi Via, via, scappa Via Mamma Chi è? Bah Signor rumore è caso Dove qua Sare cosa mandi la porta Una zia Per spostare Alcuni oggetti Ok Salta Non devo andare per di qua Per dove devo andare? Per di qua? Aha Nalzati C'è un'altra batteria Non posso riga- Eh vabbè Non manco la batteria Benissimo proprio Uh mi so cacato Mi so facciamo un jamskare all'improvvisa porca merda Dopo non era manco un jamskare però Oh Oh Chi è? Wey Ciao Ok Puttazzoccolona C'ho manco le batterie Allora il pot- Dove stanno le batterie? Ehi Oi Che cazzo mi nascondo a fare? La batteria è quella qua Comunque fino al mondo non ho avuto uno jamskare proprio brutto Che mi ha fatto cagare addosso Cioè si le ho avuti però E' stato piccolo Cioè Siamo qui Per sentire attraverso le pareti Ok Se magari ti sposti Ok Sentite attraverso le pareti Fa così E non sente niente Vabbè Andiamo via Che cazzo è il mo' che parla Non è una voce femminile Ah Oh chi è? Oh Oh Ottima Oh Ottima ammata Fui Fui Debbiva Oh 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 Sanco Arrata Fui Oh 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 God 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 I hate it What the fuck was that? non mi piace non mi piace non mi piace andare di qua No Di qua Che cazzo stanno facendo questi qua Cose a caso succedono Rumori ambicui Stanno scopando da soli Da qua sono venuto Dove devo andare scopo se Qua sono venuto Dove devo andare Ciao signor vecchio Sto costruendo la batteria per senza niente Ma dove devo andare Ah di qua Ciao Sarò bello conoscerti Ciao pure a te Cazzo urli Coglione Tiemolo Wow Che bella cosa Deve entrare in una chiesa Ahà Sì Ho capito tutto Sto capendo 10 10 10 10 10 Deve cazzo deve entrare in una chiesa Da sotto No Deve devo entrare Un'altra chiesa Un'altra chiesa Un'altra chiesa Un'altra chiesa A caso Comunque Spero che vi sia piaciuto Non si è capito Una minchia Mi so cagato addosso Il secondo episodio Lo registrerò adesso Perché voglio sapere cosa c'è dietro quella porta Ma vi voglio tenere sulle spine Fino al prossimo episodio Comunque Spero che vi sia piaciuto Mette like Iscrivetevi E tutto quanto E ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi